Sono Fosca Leoni, ho partecipato veramente anche in maniera attiva a questo seminario che è stato un continuo dialogo tra noi e la formatrice, un seminario che trattava di temi importanti quali i diritti, le istituzioni europee, i valori che stanno alla base della nostra società, poi nello specifico si sono trattati temi come il principio di non discriminazione, il ruolo delle istituzioni e delle persone, dei singoli per concretizzare questo principio di non discriminazione nella società. Infine ci siamo anche divertiti attraverso dei giochi, è stato un seminario molto interattivo.